Due auto e due bici coinvolte in un incidente avvenuto ieri sera verso le 22 in via Sant'Antonio Abate a Bovolenta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare una delle due auto che si è rovesciata nel fossato. Il bilancio è di quattro persone ferite, una in modo più grave che è stato portato in ospedale dai medici del SUEM intervenuti sul posto insieme ai carabinieri che hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto. L'incidente è avvenuto in un punto in cui la carreggiata si restringe, le due auto si sono quasi scontrate frontalmente, una delle due si è ribaltata nel fossato e ha colpito la coppia di ciclisti, marito e moglie, che in quel momento stavano passando. Uno dei due ciclisti si è comportato in ospedale a Padova, la moglie e i due automobilisti invece a schiavonia.